La città metropolitana di Torino è impegnata in un progetto di istruzione inclusiva e rispettosa nell'ambito di COESI, coprogettazione e sinergia, promosso in collaborazione con la Fondazione per la Scuola di Compagnia San Paolo. Il progetto COESI è stato ideato per favorire una maggiore inclusione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità e bisogni educativi speciali, allo scopo di creare e rafforzare le dinamiche relazionali interne alle classi. L'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Cena di Ivrea è ormai al suo secondo anno di partecipazione al progetto. A differenza dell'anno scolastico precedente, gli educatori ed insegnati del Cena hanno deciso di condurre un'osservazione diretta con i ragazzi, dividendo gli studenti in piccoli gruppi e dialogando in maniera informale con loro per conoscere le loro esigenze e criticità. Il tema scelto per l'anno scolastico corrente è il corpo, la fiducia e il rispetto nei confronti del prossimo. Sono l'educatrice della seconda R qui all'Istituto Cena di Ivrea. È il secondo anno che partecipiamo a questo progetto e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui viene vista la figura educativa all'interno del gruppo classe e del consiglio di classe, perché quest'anno abbiamo deciso di inserire il progetto Coesi utilizzandolo come materia dell'UDA. Gli insegnanti stessi hanno potuto toccare con mano come usare attività diverse, più interessanti, più vicine ai ragazzi, anche talvolta più pratiche, proprio per inserirle nel loro programma scolastico, quindi per integrare l'uno e l'altro. Hanno collaborato con me, sono stati sempre tutti molto disponibili e quindi questa cosa ci ha fatto molto piacere perché non è una condizione di normalità, si sta andando in questa direzione però non è ancora così ad oggi, quindi siamo soddisfatti. Mi chiamo Marius, sono al mio secondo anno di scuola qui al Sena e quest'anno abbiamo fatto il progetto Coesi, il quale tema quest'anno era il corpo. In questo periodo d'inglese stiamo facendo un lavoro in cui ci dobbiamo immedesimare in delle persone che possono essere i nostri fratelli, i nostri genitori, i nostri amici o addirittura esagerare persone famose, per un po' vedere come sarebbe vivere come loro, cosa cambiare di loro. Il progetto Coesi è un progetto finanzato da città metropolitana di Torino ovviamente e è un progetto che secondo me riesce effettivamente a dare uno sbocco, un concreto e pratico a delle attività di inclusione che molto spesso magari riusciamo a fare in modo trasversale ma che focalizzate e incentrate poi in un'unità di apprendimento come quella che abbiamo fatto qui all'istituto Sena ci danno poi dei prodotti reali e concreti, in questo caso avremo degli scatti fotografici, poi ci sarà anche qualcosa di concreto che rimarrà anche ai ragazzi stessi. All'interno del progetto Coesi volendo trattare il tema del corpo mi sono chiesta come affrontarlo e la cosa migliore che secondo me poteva aiutare i ragazzi era quello di associare appunto lo studio delle grandezze scalari dal punto di vista del linguaggio cinematografico e la composizione fotografica. Quindi siamo venuti per la prima volta in sala pose e abbiamo provato in pochissimo tempo con i mezzi dei ragazzi stessi a fare degli scatti in cui i ragazzi a seconda delle tematiche che sono state estratte dovevano relazionarsi all'interno di uno spazio e poi compiere uno scatto fotografico proprio per esprimere liberamente il loro concetto di corpo. Oggi abbiamo fatto un lavoratorio fotografico che si basava su cinque temi, ci dovevamo fare delle foto basandoci su cinque temi. L'intimità, la distanza, la solitudine, l'equilibrio e l'interazione. Penso che sia stato molto carino, insomma è stata un'attività un po' più particolare rispetto al solito starsene in aula a scrivere quelle robe. Penso che sia stata qualcosa di più particolare, anche più divertente che ci fa un po' più approcciare appunto a quello che di base è il nostro indirizzo, quindi la fotografia e queste cose qui. Quindi per quanto mi riguarda la lezione di oggi è stata il top.